Nasce il nuovo sportello antiviolenza e cerchio della vita con sede ad Agropoli, in Via Diaz, fondato dalla criminologa dottoressa Simona Di Lucia. Finalità dell'associazione è quella di assicurare alle vittime di violenza di genere dei loro figli l'avvio di percorsi personalizzati, volte a favorire l'autonomia personale. In particolare, attraverso una ricerca finalizzata all'inserimento lavorativo, al fine di ottimizzare e coordinare un percorso sinergico ad un processo di superamento della violenza. Bisogna educare la relazione, è necessario che sussista un'educazione ai sentimenti e ai valori, per smorzare o quantomeno arginare le sempre più diffuse uccisioni di donne, in quanto donne, così afferma Simona Di Lucia, sociologa e criminologa investigativa forense, esperta nella gestione di casi di violenza di genere, specialista nella risoluzione di casi giuridici, nonché analista della sfera processuale della scena del crimine. La sua attività comprende l'ascolto di soggetti, vittime di stalking o violenza a sfondo sessuale, in ambito intra o extra familiare. E ha seguito diversi casi emblematici, come quello di Elisa Krapse, analisi dei rati come consulente di parte. I professionisti presenti all'interno dell'associazione sono l'amministratrice Rosita Serritella, tecnico di servizi sociali, operatrice sportello e tesoriere dell'associazione, il vicepresidente Patrizia Perciaborsco, attivista, già operativa da molti anni nel sociale e l'avvocato Giovanni Basile, che opera nel settore civile e penale ed è specializzato in diritto di famiglia. Salvati è il primo spot film sul tema del femminicidio promosso dall'associazione. È realizzato con la sceneggiatura di Maddalena Orlando e la regia di Giuseppe Iadonisi, che uscirà per la prima decada di febbraio. È già in rete il teaser.